Gara che annunciava fuoco in artificio, un po' come questa di... siamo all'ultimo giro, siamo a 3-3-6 e non attualmente Silvia Weiss Steiner che prova ad entrare in scia di Sara Morena che erroneamente avevo annunciato, in realtà staccata, non era lei. Vediamo ancora questa fase finale con Kenya ed Etiopia, Kenya ed Etiopia, terza posizione per Silvia Kibet, Silvia Kibet. Concluso intanto il salto in lungo con la vittoria di Dwight Phillips, siamo ai 200 finali, con Silvia Weiss Steiner che sta recuperando addirittura posizione alle africane, gara grandiosa per lei. Meseret Defar davanti, vuole rifarsi, poi Vivian Ceruio, poi Silvia Kibet, gara grandiosa davvero di Silvia Weiss Steiner che attualmente è settima. E intanto Meseret Defar, Meseret Defar stavolta forse sì, vediamo, è lungo il rettilino. Vivian Ceruio, Vivian Ceruio, prova a fare doppietta d'oro keniano, 5.000, 10.000 ce la fa e Meseret Defar perde anche l'argento, perde anche l'argento. Attenzione alla grande gara, 3-2-5, 2-7 per Silvia Weiss Steiner, fantastica, fantastica. E la vittoria allora ancora del Kenya, che non si poteva aspettare ancora una volta, è finito troppo presto il rettilineo per Meseret Defar. A 30 dalla fine è stata infilata tanto da Silvia Kibet che da Vivian Ceruio che è andata a precederla. Oro per Silvia Kibet. La squadra dell'Etiopia è piccola, diciamo media gloria persino per un'italiana. Silvia Weiss Steiner è risultato storico tra le vere finaliste, nel senso che comunemente di una finale si dice a otto, quindi anche nelle gare di mezzo fondo. Quando finisce nelle otto sei finalista. 15.09.74, poteva oggi venire probabilmente il primo meno 15, con gara ovviamente più tirata, non da lei, dalle altre. Vivian Ceruio in questo tratto finale fa lo stesso scherzetto a Meseret Defar che aveva già fatto la sua connazionale, Lilith Masai. Vivian Ceruio, 14.57.97, certo assente il tiro di Meseret Defar, ma insomma stavolta il Kenya ha preso le misure. Poco fa il record del mondo, il terzo di questi campionati del mondo dopo i due di Usain Bolt, l'ha fatto la polacca Anita Wodarczyk. 77.96, a migliorare di 16 centimetri il record del 2016.